Roberto Falone al Parco dei Gesuiti, un'estate caratterizzata da spettacoli, musica ma anche riflessioni con autori, libri e uno sguardo alla storia per una sorta di panorama a 360 gradi della cultura. Bene, intanto questo anno lo abbiamo particolarmente dedicato a un momento di spettacolo puro per sé e poi il cartellone estivo magari per chi lo osserva a modo di capire meglio un po' come ci siamo organizzati. Ogni serata 500, 600, 700 persone in base anche all'artista o al spettacolo proposto si riuniscono qua nel cuore del quartiere Colli di Pescara. Beh sì anche questo è vero perché oramai Pescara ha imparato a conoscerci perché ritiene essere il Parco dei Gesuiti un riferimento importante oltre che per Pescara Colli anche per la città naturalmente. E quindi la gente ha imparato a conoscere questo posto, viene a trovarci tutte le volte che noi facciamo degli spettacoli e di teatro dialettale, e di teatro lingua, e di cabaret, di quello che poi il cartellone estivo offre. Spettacoli, adesso un festival dedicato al blues per riscoprire un po' una musica che tanti gruppi suonano proprio in regione. Beh insomma questa è un'altra idea che è venuta da un nostro carissimo amico che vale la pena citare Antonio Zimarino, il quale mi ha proposto questa cosa lo scorso anno. Beh devo dire che noi abbiamo abbracciato con grande piacere questo progetto e ci troviamo già alla seconda edizione. E voglio aggiungere che praticamente abbiamo avuto richieste da oltre regione perché in tanti credono in questo festival, in tanti credono che questo sia un momento per ritrovarsi fra un segmento di giovani, anche meno giovani, perché il festival blues caratterizza in maniera ulteriore questo nostro momento. Qual è il bilancio in termini numerici di questa stagione 2013 del Parco dei Gesuiti? Beh semplicemente soddisfatti perché noi non ci possiamo permettere di avere un numero basso di persone che vengono a trovarci perché altrimenti per noi sarebbe un flop. Quindi ci dobbiamo organizzare e a livello di comunicazione, e a livello di passaparola, e a livello proprio di qualità dello spettacolo affinché ci siano persone che supportino tutte le volte che noi facciamo eventi il nostro parco. E per concludere 31 agosto un momento di riflessione politica con Luciano D'Alfonso e Carlo Masci qui sul palco proprio del Parco dei Gesuiti. Io credo che questo sarà un momento conclusivo del nostro cartellone estivo perché abbiamo immaginato questo momento non per misurare il consenso dei due personaggi di rilievo, ma per cercare di poter dare un messaggio a quelle persone che poi verranno a trovarci, tant'è che se uno guarda il tema di questo evento è praticamente un confronto fra questi due personaggi di rilievo, Pescara in quale regione, Abruzzo? Quindi riteniamo essere un argomento di grossa validità, noi naturalmente invitiamo tutte le persone che vorranno venire a trovarci in quella serata, siamo certi già che saremo tanti, tantissimi ed avremo anche la possibilità di intermezzare questo momento di confronto alto, io oserei dire alto, con la partecipazione di un vostro collega, giornalista anch'esso, Pasquale Tritapepe, che si esibirà in qualche brano accompagnato dalle musiche del maestro Nicola Di Nardo, quindi noi vi aspettiamo, ci siamo e speriamo di essere tanti, tantissimi come al solito.